Roberto il ranocchietto. Giovanni viveva in una fattoria in mezzo ai campi e aveva per amici tanti animali. Da alcuni giorni era preoccupato perché non pioveva da molto tempo. Chissà come se la passa giù allo stagno Roberto. Il mio amico ranocchietto pensava. Lo stagno era piccolo ma molto bello. Era circondato da alte canne e da ciuffi d'erba e i suoi abitanti erano soddisfatti. Infatti con Roberto vivevano cimici d'acqua, alcune libellule e i due bisce. Il ranocchietto era il re di questo regno. Saltellava sulle rive, si tuffava nell'acqua, catturava al volo moscerini e la sera gracidava insistentemente. Crap! 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 Giovanni decise di andare a vedere come stava il suo piccolo amico ma quando arrivò allo stagno vide che l'acqua era quasi del tutto scomparsa. Dove era il suo amico Roberto? Lo chiamò più volte ma non ebbe alcuna risposta. Finalmente udì un debole. Crap! Crap! Il ranocchio si era rifugiato all'ombra di alcune canne dove il terreno era ancora umido. Dove sono gli altri? Chiese Giovanni. Il ranocchietto gli disse che se n'erano andati via e che lui aveva preferito rimanere lì. Giovanni lo prese per mano e gli disse ti porterò al fiume. No Giovanni non posso vivere nelle acque fredde vorticose del fiume. Ho bisogno di acqua tranquilla e tiepida, quella delle paludie e degli stagni. Il bambino allora andò in cerca di uno stagno e finalmente dopo aver tanto camminato ne trovò uno. Roberto questo è il posto adatto a te, tornerò a trovarti. Il ranocchietto vide che sullo stagno volevano libellule, cimici d'acqua, moscerini. Felice spiccò un salto nell'acqua e subito incontrò tanti girini, cioè i figli di mamma rana. Su una foglia di ninfea scorse anche una ranocchietta che lo guardava in curiosità con i suoi tondi occhi. Roberto spiccò un salto vicino a lei per fare amicizia.